ehi te coccino Giulia hai che ponerla pra cazzo perché se poni la costina pra cazzo stai a capire con siamo conci a tu mare a il soggetivo sta visibile preparare il caigio in 1 2 3 FUGO io sono a hueonau non ho entro sei sono sei paolo che sei paolo sia paolo a succeder i mi come a tirar gonca Ok Do you think I'm Gil? Non c'è pololo hace un anno Che pesa Era un video We show why For you Nooo, si pozo divi Be Pendant 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 Oh x OnePlus made himupare 또 si es cosa si è la poliera sale siéntate siotube si lo sir vende un bosque siotube suor siotate no non vene ruposte, siéntate vende ruposte, siéntate si no, venga hada i mali mazini, non sei loco no, come no no, io te detendisco io le mati siéntate io te lo pago no, no, non ho capito se non ho capito, non ho capito con chitumare, se io se carne perra 40 anni, po io per me la puñalare fuori se la carne non si meti la orla Sì, non lo so, ti non lo so, le due ai 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 che votano! Non, se la siente va, non lo so se la siente va. Ma no, non lo so, io te la pagano quando te debo. Pagano il tuo muovere il lucro, io le dommo muovere il lucro della pace e le dola le patate. Ah, tu spurti i compagnià, mi peguino il capone, mi peguino il capone, mi peguino il cio in la pata. Che tiene la mia cuchilla? Il tuo cuore la mia cuchilla? Il tuo cuore la mia cuchilla, è l'altro, mi loco, mi dimentico, mi dimentico, mi chiu di tumare, mi dimentico.. io ho guardato, io non ho guardato l'occhio permiso 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 eh permiso 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 mira quien va feliz conchetumar ya mierda buena po saco wea el machismo, vine a mudar a mi hija y en el baño de hombre ningún mudador, pero en el baño de mujeres ahí si que hay mudador po perdon perro guatón perro guatón perro guatón si no 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 ma non si può guarda la gente internet sta spiegando perché tu mentiste perché aca in la casa abbiamo internet ah perché se io le dico che ho internet quindi perché vino qui qui? però è scopo, sì o no? cuidado Frankie 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 cuidado Frankie Frankie se cayò dale weón oh perro perro admin vamo ah ah weón no 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 no